Torna Wonder Umbria, la manifestazione motociclistica non agonistica giunta quest'anno alla sua terza edizione. Un evento mototuristico organizzato dal MaxiMotoGroup che nel corso degli anni è cresciuto per presenze e qualità dell'offerta. Quest'anno si contano già circa un centinaio di iscrizioni con adesioni dalla Francia, dal Belgio e dagli Stati Uniti. Il motogiro che si svolgerà il 29 e 30 aprile e il primo maggio sarà ospitato ad Amelia ed è stato presentato questa mattina in provincia a Terni dalla presidente del MaxiMotoGroup Sandra Bonafede e dalla sindaco di Amelia Laura Pernazza. Quest'anno novità è che la manifestazione è completamente imperniata sugli aiuti a Norcia e al progetto Arca di I Love Norcia. È un progetto che abbiamo sposato fin dal primo momento. Wonder Umbria nel suo percorso aveva già previsto il passaggio a Norcia e a maggior ragione dopo il sisma abbiamo deciso di imperniare il tutto proprio su questo motivo. Sede di partenza a Amelia, un altro comune al quale siamo particolarmente legati, anche per l'accoglienza che ci hanno riservato in occasione dell'Umbria si rimette in moto. Quindi queste le novità, tante partecipazioni dall'estero che non avevamo mai avuto nelle scorse edizioni. Segno questo che la manifestazione sta crescendo. Altre tappe, Montefalco e la Valnerina? Certo, la prima tappa vedrà la partenza appunto da Amelia per raggiungere Montefalco passando prima per la cantina Lunelli, Monte Buono, la visita al Carapace e pranzo nella piazza principale, la piazza del comune di Montefalco che è l'altro comune nostro ente patrocinatore. La seconda tappa invece ci vedrà arrivare a Norcia percorrendo la Valnerina e il pranzo sarà proprio nel centro di accoglienza Allegrini e mangeremo insieme ai nostri amici che abbiamo già visitato tantissime volte nel corso di questo anno.